allora eccoci qua questa sera facciamo Bones and Hall di Guadagnino 2022 se non vado errato e lascio la parola a Vaina che inizia poi segue Barbara e chiudo io con qualche riflessione prego Vaina grazie Marco mi fa molto piacere essere appunto tornata dopo tanto tempo comincio io perché sono stata io se non ricordo male appunto a proporlo ho visto Bones and Hall al cinema quando è uscito e comincio a parlare molto brevemente della trama perché non voglio raccontarla tutta vorrei evitare gli spoiler perché magari insomma qualcuno se lo vuole anche guardare giustamente senza scoprire proprio tutto quello che accade comunque le cose fondamentali sono che siamo negli anni 80 siamo negli Stati Uniti ehm in una scuola superiore una ragazza invita una compagna la protagonista Maren a una festa e vediamo che il padre di Maren è molto molto apprensivo non si capisce bene perché all'inizio eh padre e figlia abitano in un posto molto squallido capiamo che si spostano spesso la sera il padre chiude addirittura la figlia in camera sua lei però fugge dalla finestra e raggiunge questa festa a cui è stata invitata e durante la festa Maren sembra fortemente attratta da una compagna in realtà vediamo che quella che sembra attrazione è tutta un'altra cosa perché l'hanno usa per un altro motivo le stacca un dito all'improvviso quando ho visto il film al cinema sono rimasta davvero stupita da questa scena iniziale ho pensato anche cavolo era da parecchio che non vedevo una scena che mi lasciava così senza parole al ritorno della figlia tutta insanguinata il padre quindi la la porta via ma poi se ne va quindi il padre abbandona la figlia le lascia solo un messaggio registrato e le spiega che la prima volta che era successo lei aveva solo tre anni e si trattava della babysitter che cosa succede che il padre insieme a questo messaggio registrato lascia alla figlia anche l'atto di nascita l'atto di nascita in base al quale lei può risalire alla madre quindi la ragazza si mette sulla strada alla ricerca della madre e su questa strada troverà molte persone prima di tutto incontra questo anziano cannibale Sally che le spiega molte cose Meren però decide di lasciarlo perdere quindi se ne va continua il suo viaggio e fa un altro incontro incontra il giovane lì anche lui un cannibale si mettono a viaggiare insieme si innamorano e qui il film prende tutta un'altra piega perché diventa una grande storia d'amore molto contrastata molto romantica anche se purtroppo per loro diciamo le vicissitudini ecco non gli permettono di vivere a pieno la loro la loro storia i due appunto viaggiano molto insieme incontrano altre persone altre persone che sono come loro ma non sono del tutto come loro infatti succedono alcune cose che sconvolgono Meren al punto che cerca di lasciare lì anche se poi insomma torna a cercarlo ecco non voglio appunto raccontare troppo soprattutto il finale preferisco non raccontarlo perché secondo me perderebbe proprio il gusto ecco di raccontare troppo come dire rovinerebbe la prima visione del film a chi ancora non l'ha non l'ha potuto vedere il soggetto di questo film è tratto da un romanzo fino all'osso di Camille De Angelis che tra l'altro coproduce anche il film quindi questo film che cosa vediamo quella che sembra seduzione e non la vediamo solo da parte di Meren per la sua compagna la vediamo anche nel personaggio di Lee che tra l'altro sfrutta il suo fascino per procurarsi un'altra vittima quindi quella che sembra seduzione è in realtà la natura animale che emerge Meren a un certo punto del film dice non voglio fare male a nessuno ma noi capiamo che questo non si può avverare ecco che Bones and Doll è una grande storia d'amore appunto di due persone che sono mostruose che si incontrano e si amano ma hanno comunque il desiderio di mantenere un'umanità un desiderio che si scontra purtroppo con la dura realtà perché questa normalità o meglio questo desiderio di normalità ha un costo la colonna sonora secondo me è davvero straordinaria perché insieme ad alcuni pezzi degli anni 80 e al meraviglioso pezzo Atmosphere di Joy Division ci sono poi dei brani classici e poi soprattutto la musica originale di Trent Reznor e Atticus Ross poi che dire c'è sempre la grande domanda ma Chalamet è solo bello è un attore sopravvalutato io non credo secondo me è un bravo attore anche se personalmente l'ho preferito in Chiamami col tuo nome mentre qui a parere mio viene un po' oscurato dalla coprotagonista Taylor Russell che è veramente molto molto brava e poi in Bones and Doll ci sono alcuni comprimari tra cui anche il regista David Gordon Green in una parte molto molto sgradevole la grande Jessica Harper quindi davvero anche i comprimari sono molto diciamo che il casting è stato secondo me molto efficace l'essenza del film sta tutta secondo me in una frase del padre di Maren che le registra le spiega che dopo che lei aveva ucciso un bambino lui aveva pensato ecco chi sei ho pensato ecco chi sei non ho mai pensato che cosa sei questo secondo me è una è davvero un messaggio molto molto significativo il finale l'ho trovato cattivissimo davvero più cattivo del previsto e trovo che Luca Guadagnino sia stato molto coraggioso certo lui sappiamo ama particolarmente i film ambientati nel passato e già con Sospiri aveva destrutturato decisamente l'horror ecco qui però che cosa succede è stato particolarmente coraggioso girare un film del genere che però non è un film di genere perché abbiamo veramente tanti piani e tanti generi diversi che si intersecano perché Bon Zendolo è un road movie è un horror con cannibali ed è ovviamente una love story poi ci sono tantissime citazioni riferimenti al cinema degli anni 70 80 90 c'è la scoperta di sé attraverso il viaggio ci sono ovviamente i mostri che però sono quelli che maggiormente si interessano alla vita e alla morte chiudo solo con una curiosità che Armie Hammer che è stato il coprotagonista di Chiamami col tuo nome insieme a Chalamet è stato tra l'altro accusato proprio di cannibalismo ecco dopo questa gustosa curiosità vi lascio la parola grazie anche io anche io sapevo di 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 questa di questa curiosa coincidenza tra tra il secondo film di di Chalamet con Guadagnino è proprio un film sui cannibali il suo coprotagonista del film precedente è stato accusato proprio di cannibalismo allora Vaina ha già descritto la trama anch'io non voglio entrare troppo nel nel merito perché è bello è bello gustarsi ai tempi giusti non è troppo veloce non è troppo dilatato però voglio ricollegarmi a qualcosa che ha detto che hai detto tu poco fa ha stravolto il genere molti hanno criticato questo questo film di Guadagnino i cultori del genere horror perché secondo loro l'ha l'ha stravolto talmente tanto che ha utilizzato dell'estetica horror per portare avanti quella che è la sua poetica ma in realtà questo non è un film di genere assolutamente bisognerebbe poi interrogarsi su che cosa sono ormai i film di genere perché sono talmente tanto trasversali le cose talmente tanto sovrapposte e complesse oggigiorno che sarà sempre secondo me più difficile nel cinema futuro individuale dei film di genere a me il film è piaciuto è piaciuto più di chiamami col tuo nome in realtà sono d'accordo sempre con con Vaina sul fatto che una cosa che ho apprezzato di Guadagnino è che lui fa fare dei cosiddetti camei attori di calibro come Chloe Sevigny Jessica Harper ne hai citato anche tu Michael Stulbang che fa un bellissimo cameo è una delle persone uno dei cannibali che incontreranno i nostri due protagonisti però sono sempre camei dove c'è una storia dietro nel senso che anche in quei tre minuti che l'attore che il personaggio perdonatemi appare nel film c'è tutta una stratificazione dietro e credo sia dovuto sia alla buona scrittura del romanzo che io comunque non ho letto ma sicuramente anche poi a una trascrittura buona dei personaggi poi all'interno della sceneggiatura perché sappiamo che comunque è diverso scrivere un personaggio all'interno di un romanzo e scriverlo all'interno di una sceneggiatura i temi sono veramente tanti si parla anche qui del corso temporale di un'estate un'estate in cui i nostri protagonisti viaggiano e tagliano gli Stati Uniti praticamente da una parte all'altra viaggiano per diversi stati e come nell'estate di Chiamami Suono Chiamami col tuo nome è un'estate fondamentale questi ragazzi iniziano l'età adulta e secondo me uno dei modi di interpretare questo cercare di trovare un modo di essere dei cannibalietici mettiamola così e potrebbe essere letto come una metafora del fatto che dopo una certa età ci si interroga se si sarà come i propri genitori o no entrambi hanno delle storie drammaticissime con i loro genitori soprattutto i genitori che hanno trasmesso loro questo istinto entrambi cercano di essere di emanciparsi da questo modo di essere cannibali emancipandosi dalla loro famiglia d'origine e questo nel corso di un'estate questo sono tanti tipi di temi che ricorrono spesso nel cinema anche anni ottanta ne abbiamo discusso spesso con Marco queste stati lunghe che erano più lunghe delle stati che viviamo adesso un po' anche da un punto di vista forse anche proprio capitalistico adesso dopo un po' si sfrutta la stagione nel mezzo e poi c'è bisogno già di qualcosa di nuovo abbiamo bisogno sempre di novità quindi un'estate così dilatata secondo me non è più possibile e Guadagnino ce la fa rivivere attraverso il cinema perché nella vita di odierna non è più possibile pensare a una stagione così dilatata con dei tempi così dilatati perché c'è sempre voglia di movimento di cambiamento e di qualcosa di nuovo da mettere sotto i denti per per citare il titolo il titolo del del film mi è piaciuta da morire la fotografia che cambia in maniera veramente sublime dai tramonti alla fotografia notturna questi tramonti che sono tutti pastello morbidi con questi colori avvolgenti e invece la fotografia che c'è durante le ore più più cupe che invece è livida è molto più aggressiva e anche l'utilizzo del sangue mi è piaciuto molto non svegliamo niente essendo cannibali ci sarà molto sangue in gioco e mi è piaciuto molto perché si sposa bene comunque con questa fotografia che a volte è proprio melò è proprio un un film d'amore di teenager il mio personaggio preferito poi manco a dirlo penso che sia il personaggio preferito di quasi tutti quelli che avrebbero visto il film è quello di Sally il primo cannibale che incontra la nostra la nostra protagonista che è un personaggio estremamente stratificato tant'è che se vai a leggere se andate a leggere la la scheda del film non risulta un comprimario risulta cioè i protagonisti sono tre sono Maren sono Lee e sono De Sally e quindi questo questo essere un po' demoniaco che ruota intorno a questi ragazzi fa sì che la storia abbia come dire un 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 filo di di tensione tensione che ti fa ti fa vedere la storia con un livello di attenzione alto fino alla fine anche perché il film non è breve ecco queste sono le prime cose che volevo toccare del film poi mi riservo di dire altro però dopo grazie allora grazie a voi per per gli interventi aggiungo giusto qualcosina dico con tutta onestà che mi aspettavo da tempo un film su sul cannibalismo un film serio che riflettesse sulla tematica del cannibalismo e devo dire che Guadagnino secondo me merito probabilmente del romanzo però io parlo del film appunto perché credo che poi sia sia stato cioè era già scritto così non è che si sia inventato nulla da questo punto di vista però qual è il il punto di innovazione di questa di questo di questi cannibali che vediamo qua cioè che noi in genere siamo abituati a pensare ai cannibali anche il cinema un po' ci ha abituato a pensare ai cannibali come dei selvaggi su qualche isola dove vanno dei turisti borghesi che vengono magari dalle capitali europee arrivano su quest'isola vengono sequestrati legati sventrati e divorati da questi cannibali che sono dei mostri e tutti quanti noi ovviamente in quel caso siamo siamo subito pronti ad additare il mostro è sempre facile quando abbiamo di fronte il male puro è molto facile dire quello è il male puro e beh va fatto fuori questi si devono salvare questi loro sono come noi gli altri sono qualcosa che noi non riconosciamo non ci riconosciamo né in quel tipo di cannibali che sono mostri o meno umani mostri o mostri proprio zombie o qualcosa di peggio ecco credo che il punto di innovazione di questo film che ripeto probabilmente viene dal romanzo ma parlo del film è quello di presentare questi cannibali come noi cioè loro sono come noi hanno le nostre stesse paure hanno le nostre stesse voglie di relazionarsi di conoscere il mondo fanno un'estate proprio come la farebbero due persone due ragazzi normali su questo hanno anche la condivisione di questo mezzo che li trasporta come li chiamano loro questi pick up questi trucks questi mezzi che li trasporta per queste terre che diventa proprio emblematico di questo viaggio c'è questo incontro ci sono questi territori c'è questa America di questi ampi spazi di questi colori di questi tramonti appunto di cui avete parlato però ecco secondo me il punto veramente di innovazione di questa proposta che ci fa guadagnino continuo a ridire probabilmente che viene da romanzo è quello di proporci dei cannibali come noi che si fanno i nostri stessi problemi certo magari non di tutti i nostri stessi problemi cioè che cosa cosa costa la nostra sopravvivenza che cosa si mette in gioco quando noi ci nutriamo di cosa ci nutriamo chi è che ci ha fatto che ci ha reso così perché dobbiamo imporre la nostra volontà su queste persone su queste cose ecco io penso che la domanda sia pesante la domanda che emerge da questo film sia una domanda molto molto pesante ed è pesante perché appunto porta sulla scena delle persone che hanno la nostra stessa coscienza non si differenziano in nulla da noi questi questi cannibali essi pongono i nostri stessi problemi noi siamo diciamo i signori del mondo perché siamo stati i più forti ci siamo imposti sia sulla natura sia sugli animali e il grande tema di questo film è quello di dire ma se ci fosse un altro un altro gruppo di persone che però per vivere hanno bisogno di nutrirsi di noi ecco fino a che punto è giusto che queste persone continuino a vivere o meno e se non dovessero più vivere cioè in base a che cosa si va a stabilire questo su chi vince sul più forte che poi una volta che vince con la forza impone anche dei nuovi valori impone anche una nuova etica nei confronti del mondo un nuovo modo di relazionarsi al mondo ecco io quindi credo che da una parte ci sia questa domanda che è una domanda pesante è una domanda pesante che emerge da questo film poi c'è tutta quanta la tematica se vogliamo un po' più romantica di amore e morte che a me poi fa venire sempre in mente quel grandioso libro di Denis de Rougamont che è l'amore e l'occidente e in questo film c'è molto di questo di questo di quel grande tema che prende Denis de Rougamont dell'amore e della morte e poi c'è il tema del viaggio è sicuramente un film anche sulla crescita è un film sulla consapevolezza questa ragazza che affronta questo viaggio ascoltando le cassette delle registrazioni del padre ha anche un percorso non solo di consapevolezza ma anche emotivo incontra delle persone c'è anche tutta una carrellata di varie tipologie di persone c'è un incontro di elementi c'è l'incontro con la natura c'è l'incontro con con che cosa significa vivere ecco un'estate che cosa è un'estate da questo punto di vista un'estate dove si si fa appunto questo questo viaggio che poi è un viaggio nello spazio ma è un viaggio anche nel tempo interiore bergsoniano c'è anche c'è anche un po' tutto questo quindi io penso che sia un film che mette mette in campo tante cose ho visto che ho visto che un'accusa che è stata mossa a questo film a me faceva un po' sorridere un film che è stato accusato di non empatizzare perché questi si mangiano esseri umani non è che mangiano animali mangiano esseri umani è molto era una critica molto molto simpatica da questo punto di vista niente quindi io mi fermerei qui se volete aggiungere qualcosa mi andava da dire un po' un po' queste cose qua aggiungo solo un paio di cose proprio ascoltando te Marco mi sono venuti in mente un paio di cose una riguarda proprio il personaggio di Sally che si arrabbia con Meren proprio perché dice io mi sono nutrito proprio insieme a te mi sono fatto vedere insomma per la prima volta quindi ha condiviso un'intimità che evidentemente non aveva mai potuto condividere prima con nessun altro ed è questo il motivo per cui impazzisce totalmente e poi appunto la questione relativa meritano comunque di vivere vincere più forte secondo me l'incontro più spaventoso che avviene all'interno del film è quello con i due squilibrati che arrivano appunto con questo pick up tra cui uno è appunto cannibale e l'altro no cioè o meglio sì lo è ma per scelta non perché è la sua natura che lo lo spinge lo costringe a farlo ecco per quanto riguarda invece l'accusa della non empatia beh stiamo parlando di cannibali è ovvio che cioè è un racconto da questo punto di vista è chiaro c'è una una forte componente fantasy del resto uno dei libri che viene letto da da Maren se non sbaglio è proprio il signore degli anelli quindi cioè è come in effetti a molti horror vengono rivolte delle critiche di questo tipo ma bisogna partire ovviamente dal dal punto di partenza che se c'è un un elemento fantastico insomma diventa un po' essere lì appunto a determinare se manca di empatia o cose di questo tipo non so rimane sempre un po' una critica un po' così un po' fino a se stessa ecco dal mio punto di vista basta solo questo anche io aggiungo solamente una cosa in riferimento sia ciò che ha detto Vaina che ciò che ha detto Marco non solo questi cannibali sono molto simili a noi non sono mostruosi ma nel film non viene mai precisato bene e immagino sia così anche nel romanzo è la questione della scelta noi non sappiamo se questi cannibali perché noi vediamo noi siamo abituati che il mostro che mangia carne umana o che mangia cervelli o che succhia il sangue può nutrirsi solo di questo in realtà noi all'interno del film vediamo che entrambi possono mangiare qualsiasi cosa cioè si vede lì che mangia i cereali a colazione eccetera eccetera Maren che mangia i pancake quindi non solo esteticamente sono simili a noi da un punto di vista comportamentale dell'atteggiamento sono simili a noi ma sono simili a noi e infatti molti pensano che ci sia anche questo messaggio anche nella scelta cioè non è detto che loro siano costretti a nutrirsi di carne umana non viene mai detto all'interno del film correggetemi se sbaglio che loro potrebbero essere in pericolo di vita se non si nutrissero di carne umana viene detto più volte che da loro uno stato di estasi di forza di potenza ma non viene mai detto che questo è imprescindibile alla vita e quindi secondo me è anche la questione della scelta loro scelgono comunque di essere cannibali però cercano di farlo in una maniera etica mettiamola così e quindi anche la questione non solo del comportamento dell'estetica è proprio una questione della scelta perché noi siamo abituati che il mostro il vampiro può solamente bere il sangue per esempio non può a un certo punto prendere e farsi una pizza quindi è questa la questione della scelta basta io sono sì no io adesso il film non ho avuto modo proprio di rivederlo ultimamente ricordo che c'è un dialogo dove da Chalamet e la ragazza dove lui dice lo dobbiamo fare e basta cioè non è che ci non è che possiamo siamo fatti così cioè mi sembra che ci sia poi per approfondire questo bisognerebbe andare a prendere il romanzo per dire io credo che lei l'abbia impostato che c'è una sorta di gruppo che nasce in questo modo e che si nutre di carne umana e l'abbia fatto per motivi probabilmente vegani o quantomeno per sponsorizzare per mettere un po' in crisi quest'idea dell'uomo che si nutre degli animali e credo che l'abbia fatto per questo credo che ci sia ci sia questo come intento e da questo punto di vista le ha fatti che necessariamente devono nutrirsi di carne umana per mettere di fronte al carnivoro umano un carnivoro di umani che pensa un po' come lui io credo che sia questo poi il succo del film però attorno a questo guadagnino secondo me ci costruisce tanto non mi sento di dire nulla sul romanzo perché non lo conosco però secondo me il guadagnino ci mette tanto alto che c'è nei suoi film c'è un po' nel suo cinema e quindi mi fermerei qui se non volete aggiungere altro a posto a posto allora niente allora grazie e alla prossima alla prossima